E salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Allora, questa sera vi voglio parlare della apertura di iOS o meglio del kernel di iOS al mondo open source Allora, scusatemi intanto se sentite dei click durante il video ma sto installando JAWS Mentre è fallogioso faccio questo video, quindi va bene Allora, cos'è intanto un kernel? Un kernel sono i codici, è la parte che gestisce l'operazione di sistema a basso livello Cosa significa? Quando noi avviamo il computer ad esempio O quando noi facciamo l'aggiornamento di sistema No, l'aggiornamento di sistema già no, già a più alto livello Ma quando effettuiamo operazioni di più basso livello Cosa si utilizza? Non si utilizza il sistema operativo in sé O meglio, si utilizza l'interfaccia per effettuare queste cose L'interfaccia grafica per effettuare queste cose dal sistema operativo Però si utilizza per svolgere determinate azioni Che ovviamente sono svolte per la maggior parte degli sviluppatori Perché non sono cose che si possano fare così facilmente Non le faccio nemmeno io Quindi immaginatevi Ci vuole di sapere dei codici di programmazione Allora Quindi Cosa è il kernel? È quella parte di sistema Che è uguale per quasi tutti i sistemi operativi Tranne Windows e pochi altri Il resto utilizza il kernel Unix Bene, questo kernel che Apple ha modificato È stato reso pubblico Pubblico cosa significa? Che è scaricabile Infatti ora io vi vado a cercare anche il sito internet Da dove Staricatelo Allora Cerchiamo Download No non è stato ancora Caricatelo da nessuna parte Oppure se c'è È molto nascosto Però oggi su iPhone Italia È stato detto Che è stato reso disponibile Quindi è una cosa ufficiale E se cercate tra qualche giorno Sicuramente cosa lo vedrete Allora Sì qui Intanto sta Ecco qua Diceva Sì Era Sì Grazie a tutti.